Prima di guardare il video, ti chiedo un piccolo favore. Schiaccia il tasto iscriviti e metti mi piace. Grazie mille! La tensione nel parterre di uomini e donne raggiunge l'apice con le dichiarazioni di Ernesto sul suo passato con Barbara. Secondo il Cavaliere Romano, questa relazione continua a influenzare negativamente i suoi rapporti con le altre dame. Marianna, la sua attuale frequentazione, avrebbe addirittura considerato di interrompere il tutto dopo aver scoperto il legame tra Ernesto e Barbara. Tuttavia, la professoressa Bresciana respinge le accuse, affermando di non avere nulla di più che un'amicizia con Cristina. L'atmosfera si surriscalda ulteriormente, quando Tina e Gelli e altri opinionisti intervengono nel dibattito, portando alla luce antiche ruggini e sospetti reciproci. La discussione si trasforma rapidamente in un conflitto acceso tra le protagoniste, rivelando tensioni nascoste e antichi dissapori.